Avevano messo a segno un colpo in un atelier, dandosi alla fuga con abiti da sposo dal valore di qualche migliaio di euro, ma sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza e sono così finiti in manette due giovani. È successo a Monte San Savino, dove lo scorso 29 ottobre un 34enne ed una 24enne, entrambi romeni senza fissa di more e pregiudicati, si erano prima intrufolati all'interno del negozio attraverso la porta d'ingresso che a causa di un guasto non era perfettamente chiusa. I titolari e i dipendenti si trovavano al piano inferiore nel laboratorio di Sartoria. Una volta capito di essere sola, la coppia ha fatto così reazia di abiti da sposo per un valore commerciale di circa 5.000 euro. Ad accorgersi del furto subito era stato il titolare, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza. A quel punto era scattato l'allarme, i carabinieri di Monte San Savino, giunti sul posto, oltre ad acquisire le immagini che immortalavano i movimenti dei ladri, avevano anche trovato un bigliettino da visita di un hotel romano. Il risultato, completamente estraneo al negozio, è dunque presumibilmente riconducibile agli autori del furto. I militari, così ipotizzando che due ladri lo avessero perso durante il colpo, avevano approfondito le indagini indirizzandole su una pista romana. Grazie alla collaborazione con i colleghi della stazione di Roma a Piazza Dante, i militari sono riusciti ad identificare e sottoporre a fermo di polizia giudiziaria entrambi gli autori del furto. Al momento dell'arresto, la coppia era ancora in possesso di parte della refurtiva.